ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco neovina a cosa serve neovina un parafarmaco appartenente alla categoria degli idratanti tonificanti rassodanti multifunzione corpo è commercializzato in italia dall'azienda laboratorio della farmacia srl informazioni commerciali titolare laboratorio della farmacia srl concessionario laboratorio della farmacia srl categoria di appartenenza idratanti tonificanti rassodanti multifunzione corpo confezioni neoven gel gambe 150 ml modalità d'uso applicare sulla zona da trattare con un massaggio prolungato dal basso verso l'alto descrizione e caratteristiche gel fresco e leggero con estratti di mirtillo ipocastano centella ginkgo biloba a mammelide e mentolo allevia il senso di affaticamento e di pesantezza delle gambe donando una rapida sensazione di sollievo e benessere avvertenze tenere lontano dalla portata dei bambini non utilizzare in caso di allergia o ipersensibilità ad uno degli ingredienti conservare lontano da fonti di calore eventuali variazioni di colore sono normali e dovute alla naturalezza degli estratti testato dermatologicamente su pelli sensibili pao sei mesi componenti e ingredienti acqua alcol denat di caprilli letter glicerina mentol esculus ipocastanum leat extract centella asiatica extract ginkgo biloba leat extract a mammelis virginiana leat extract vaccini un mirtillus fruit extract menti lactate menti l'etilamidoxalate fenoxietanol polygliceril 6 poliricinoleate etilexil glicerina acrilates barra c10 30 alkylacrilate cross polymer aminometilpropanol trisodium etilene di amine disuccinate tetrasodium glutamate di acetate tocco ferrol fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato